Salve, io sono Esaubeau. Si parla spesso di luoghi strani, di posti infestati. Mi trovo qui davanti a questa struttura misteriosa, dove pare si verifichino fenomeni paranormali. La gente del posto chiede un certo riservo, per cui non dirò dove mi trovo, ma io sono qui per cercare di fare luce su questi strani misteri. Alcune testimonianze affermano che in questa struttura, in questa dimora, ci siano i fantasmi, che alcuni definiscono anime in pena. Alcune persone affermano di aver visto ombre fluttuare nell'aria all'interno di questa casa. Altre persone, invece, affermano di aver udito il pianto inquietante e incessante di un bambino. Questi fenomeni pare avvengano sempre e solo durante la notte. Questa notte tornerò qui, perché voglio vederci più chiaro. Sono nel retro di questa misteriosa struttura. Fra qualche istante andrò dentro, in esplorazione. C'è molto freddo, ma fino ad ora mi voglio segnalare. Sto girando già da un po' di tempo, ma per adesso nulla di anomalo. Questa e! La stessa e la storia dei sottotitoli. Questa è la storia del pianto di questo, ma per il pianto di un po' di tempo. Questa deve essere afferminata a disposizione di un po' di tempo. Questa è di un po' di tempo. Il pianto di due spazzola. L'acce del pianto di questo, ma per il pianto di un pianto vive. Quindi, invece, non ha definito la nuova per la fisca. Un po' di tempo, per la fila di testi, ma per la vic lohka. Grazie a tutti. Grazie a tutti.